Un incendio divampato questa notte poco dopo le 2.30 nella Galleria Santa Lucia sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno nell'ambito di interventi di manutenzione programmati durante la sospensione della circolazione. La causa, secondo quanto riportato da rete ferroviaria italiana, sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola, utilizzata per le attività manutentive, che ha coinvolto un mezzo della ditta Salcef, che opera per conto di RFI, ferendo 5 operai, soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. In corso le indagini per approfondire la dinamica dell'accaduto.